Sono alla 34esima settimana, quindi manca poco e direi che questa situazione non me la sarei mai immaginata perché insomma dover affrontare una gravidanza e partorire durante una pandemia non è proprio da tutti. Noi ovviamente siamo molto entusiasti e non vediamo l'ora di abbracciarla, sarà una femminuccia. Alice è una delle tante future neomamme d'Italia che si accingono a vivere l'esperienza del parto nel particolare momento storico che stiamo vivendo, contrassegnato dal dilagare del virus Covid-19. L'azienda sanitaria locale si è fin da subito attivata per assistere le future madri o neomamme anche in questo contesto. Sia nei nosocomi di Feltre Belluno e al consultorio Feltrino infatti sono stati attivati dei corsi online di accompagnamento alla nascita e postparto. Le future mamme da casa si confrontano con le ostetriche e con le altre donne in videoconferenza per prepararsi al meglio al lieto evento, ma anche è stato attivato un apposito servizio di videoconferenze per permettere alle donne di ricevere risposte riguardo i possibili dubbi sull'emergenza Covid-19, attività che è stata assai apprezzata dalle donne. È stato molto utile e interessante e oltretutto facile da seguire. Oltre all'attivazione del corso preparto da svolgersi online, l'Ulse Dolomiti ha attivato anche dei corsi telematici per il massaggio neonatale. Il corso è stata un'occasione anche per approfondire la conoscenza madre e figlio attraverso il massaggio. Ed è molto utile anche per i papà per i quali sono stati creati dei contenuti dedicati. Un'ulteriore specifica attenzione viene riservata dal personale sanitario alle future mamme che dovessero risultare positive al Covid-19, come del resto tutti i pazienti affetti dal virus. Nella drammaticità della situazione attuale di emergenza, nel mese di marzo, ben 110 bambini sono nati in provincia. Un segno di speranza che induce tutta la popolazione ad avere fiducia nel futuro e a ripetere ancora una volta tutto andrà bene.